Presidente, gli americani vogliono delle spiegazioni sulle sue dichiarazioni sassiste, maschiliste e sul fatto che ha detto che le donne devono stare alle spalle degli uomini. Frank, io non ho nessun problema con le donne alle spalle. Se non le possiamo tenere alle spalle, a volte le mettiamo sotto. American first. No, no Presidente. American first. American first.